Il vento che si abbatte impetuoso, la mente e il cuore travolti dallo Spirito Santo l'annuncio nei diversi idiomi del mondo. È a questa suggestiva immagine che Papa Francesco si affida per spiegare la Pentecoste nell'Omelia della Messa celebrata nella Basilica Vaticana. Lo Spirito afferma, guida a tutta la verità, rinnova la terra e dà i suoi frutti. Spirito di verità perché introduce discepoli di Cristo, prima impauriti e bloccati, a non temere più davanti ai tribunali umani, perché hanno compreso che la morte di Gesù è espressione estrema dell'amore di Dio. Spirito che rinnova la terra dando vita ad ogni cosa e che chiama l'uomo a rispettare e a custodire il giardino in cui vive. Ma è solo lasciando spazio alle opere dello Spirito evidenzia Francesco che si potranno cogliere i frutti e così, rafforzati dai doni ricevuti, si diventa capace di lottare senza compromessi contro il peccato e la corruzione che ogni giorno dilaga. Ci sono tanti modi di chiudersi allo Spirito Santo, nell'egoismo del proprio vantaggio, nel legalismo rigido come l'atteggiamento dei dottori della legge che Gesù chiama ipocriti, nella mancanza di memoria per ciò che Gesù ha insegnato, nel vivere la vita cristiana non come servizio, ma come interesse personale e così via. Invece, il mondo ha bisogno del coraggio, della speranza, della fede e della perseveranza dei discepoli di Cristo. Il mondo ha bisogno dei frutti, dei doni dello Spirito Santo, amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé.